ragazzi io mi dico la mia ok perché hanno stancato con noi ok e quindi io mi riporto con questa cosa che mi ritrovo adesso che loro vengono uno sconetto ogni 40 anni ok che nella prima volta nella sua storia l'Inter festingerà uno sconetto di merda e di cartone come lo sono sempre stati ok perché tra l'altro noi per 40 anni perché noi per 42 anni abbiamo vinto la seconda stella perché abbiamo vinto punto e basta ok è fine della storia va bene dove noi l'abbiamo messa nel 89 quando tu non nascevi caro interista va bene quindi è inutile che fate così perché noi siamo un'ossessione un'ossessione e non si temori a fare un'ossessione a noi ma un'ossessione dalla jume proprio no ok quindi questo è quello quindi questo è quello che vi meritate per la vostra ignoranza sì è vero non si può toccare però c'è siamo arrivati a limite a questo punto perché noi non ce la facciamo più ok e quindi e quindi e quindi noi siete un'ossessione a noi ok noi non c'entriamo nulla va bene perché noi siamo un'ossessione a vostro ok noi non c'entriamo nulla va bene perché noi siamo un'ossessione a vostro ok noi siamo un'ossessione a vostra ignoranza in 10 anni tu che cazzo fate invece di allora questo è quello che vi meritate e merna resterete e merna resterete solo queste parole vi pronuncio da stasera perché voi non siete normali dove tu hai messo tre champions nella tua bacheca e io ci ho messo 71 trofei contro le 41 di voi quindi noi stiamo permettendo la quarta stella sul petto quindi noi stiamo permettendo la quarta stella sul petto tu non mi indi un cazzo finiamo poi parlate fin parlate che noi vingiamo la coppa d'italia e il campionato nella terza posizione io ve lo dico già da stasera perché è così e il prossimo che parla c'è su questo avvo prima di parlare contro noi ok quindi questo è questo è quello che mi volevo dire perché in Milano avendo lo scudetto sono grazie all'autogo di Rando quindi questo è quello che cazzo è in carcere è in carcere e non dice ok perché perché tu sei il problema della società vostra che siete ridicoli siete ok ok quei che si spacciano per arrivare contro la lluvia siete bui ok quindi questo è quindi imparate che così cazzo ok e sportività perché voi non ammettete questo perché voi non ammettete questo ok quindi fatemi tutti pensamenti di coscienza e aprite il cuore sulla mano ok e direte che ci dovete scusarci per come ci avete trattato scusateci e fingici perché noi siamo una lluvia il figlio della società che prima delwać non mi abbia il discorso ok questo è che non lo avete a dire che harvest e fendici homina kine santoriello e dove siete ciò quindi iscrizione al canale cari miei e domiti a fare tutte le notifiche per non prendere i prossimi contenuti ok e lasciati anche un like e qualche commento quindi solo questo video e al prossimo video però non da domani ma da mercoledì ok quindi mi raccomando e sempre fino alla fine